Era il 29 dicembre 2010 quando crollarono due conci della diga di Montedoglio, una notte di terrore per l'intera Valtiberina. Adesso a nove anni di distanza, finalmente la consegna ufficiale della cantiere per l'avvio dei lavori. Finalmente iniziamo i lavori e faremo un consolidamento, cioè un rifacimento del muro e un aumento della sicurezza. Perché tutti i crismi che abbiamo rispettato sono anche in base alle nuove normative riguardo il terremoto e quindi restituiremo un impianto efficiente con ancora più sicuro rispetto a quello che era previsto. Assegnataria dei lavori di ripristino del muro di sfioro, l'azienda Ternana crea costruzioni. La soglia sfiorante verrà realizzata con la stessa configurazione geometrica, però si tratterà di abbassarlo di un metro rispetto all'attuale scendio sfiorante e verrà allargato di mezzo metro in più rispetto all'attuale configurazione. Questo per quanto riguarda il muro contro acqua in corrispondenza dell'acqua del lago, mentre il muro contro terra che va a chiudere poi il canale di scarico della diga sarà soggetto a interventi di adeguamento e miglioramento sismico. Il volume che sarà invasabile successivamente a massima regolazione una volta realizzati i lavori si parla di 143 milioni di metri cubi circa. Mi sembra che questo invaso di dimensioni molto rilevanti possa offrire opportunità di sviluppo sia per la regione Umbria che per la regione Toscana, sia per quello che riguarda l'aspetto idropotabile ma principalmente anche l'aspetto irriguo perché ci sono grandi opportunità in questo senso. Il processo per il crollo della diga in primo grado si era concluso con l'assoluzione dei due imputati, l'ex direttore dell'Entirriguo Umbro Toscano Diego Zurli e il direttore dei lavori Stefano Cola, entrambi prosciolti dall'accusa di disastro colposo. Il PM Luigi Nicacci aveva chiesto rispettivamente per loro 8 e 16 mesi. Il prossimo 5 dicembre l'appello a Firenze. Al prossimo 5